Ok ragazzi bentornati su ProphecyTech Banext Hardware Era da un po' che volevo portarvi questo video perché ormai su questo canale avete visto diverse configurazioni PC con i vari gameplay No, se ci seguite conoscete sicuramente il format ma non vi ho mai fatto vedere quello che c'è dietro Quindi come registro questi gameplay, come testo il PC e tutto l'iter insomma appunto che c'è dietro Ora ho deciso di dividere questo contenuto in due parti Oggi vi farò vedere più che altro come registro questi gameplay senza perdere nemmeno un FPS Quindi riuscendo a farvi vedere, a mostrarvi le prestazioni nude e crude del PC in prova Dopodiché arriverà un altro episodio dove invece vi faccio vedere un po' come funziona MSI Afterburner Il programma che utilizzo per mostrare le statistiche in tempo reale a schermo e sul quale mi avete fatto un miliardo di domande tantissime volte Quindi vi farò vedere un pochino come funziona, come può essere impostato e così via Prima di partire però, piccolo diciamo sponsor del video, visto che non ho ancora avuto modo di utilizzarle in una build Vi volevo mostrare le nuove ventole QL120 RGB di Corsair Ventole che puntano decisamente all'estetica, ciascuna equipaggiata con ben 34 LED E poi hanno la particolarità di essere illuminate anche posteriormente Quindi rendono molto bene all'interno del vostro case indipendentemente da come sono installate Esistono sia in versione da 120 che da 140 mm e nella confezione multipla, nel kit da 3 o da 2 Trovate anche il controller, il Lighting Note Core che vi permette di collegarle facilmente al PC E di gestirne dunque l'illuminazione RGB addressable tramite il software IQ Vi lascio ovviamente il link in descrizione e tornando a noi sul come registro questi gameplay La chiave di tutto è questo oggetto qua, con me Una scheda d'acquisizione, nello specifico l'Elgato 4K60 Pro MK2 Che serve fondamentalmente a catturare una sorgente video esterna e metterla a disposizione del vostro PC Quindi un dispositivo fantastico per chi vuole fare streaming ad alto livello Più semplicemente registrare gameplay con qualità elevata o anche acquisire sempre su PC una fotocamera Comunque tra un attimo vi sarà tutto più chiaro Questa è l'ultima versione, parlando di schede di acquisizione PCI Express di Corsair Elgato Sì, per chi non lo sapesse, Elgato è stata acquisita più di un anno fa ormai da Corsair Prima usavo il precedente modello, ovvero il 4K60 Pro non MK2, quello a sinistra più grande Che quando uscì a fine 2017 fece la felicità di moltissimi content creator Perché questa è stata la prima game capture consumer che consentiva di registrare in 4K a 60fps Infatti nonostante costasse al lancio 400€ dovete sapere che le alternative allora sul mercato Pari, caratteristiche o superiori costavano più del doppio E l'ultimo, il nuovo modello, il Mark II, ha reso ancora più accessibile la creazione di contenuti ad un certo livello Perché questo potete acquistarlo tranquillamente su Amazon a 250€ E oltretutto offre anche delle funzionalità extra rispetto alla versione precedente molto interessanti Come funziona prima di tutto? A chi può tornare utile e perché lo utilizzo io? Allora, per poterla utilizzare dovete installarla in un PC Come detto sfrutta la connessione PCI Express e dovete utilizzare quel PC a parte solo per registrare o fare streaming Non è pensata per essere installata nello stesso PC con cui giocate In quel caso, ve lo dico subito, è inutile Quindi per poterla sfruttare dovete avere un PC dedicato solo allo streaming o alla registrazione dove l'andrete a montare Poi potete giocare sia da console che da PC naturalmente Molto semplicemente vedete che ci sono un ingresso e un'uscita HDMI In ingresso collegate un cavo HDMI che parte dalla scheda video del PC o parte dalla console con il quale state giocando E dalla quale volete catturare il gameplay E in uscita fate invece partire un altro cavo che va al monitor sempre con il quale state giocando Quindi in sostanza questa scheda di acquisizione si frappone tra il PC o la console gaming ed il monitor Si mette in mezzo al flusso di dati rendendolo disponibile al PC che è dedicato allo streaming o alla registrazione E in questo modo voi riuscite a giocare senza alcuna perdita a livello prestazionale perché tutta la parte di encoding è demandata ad un altro sistema So perfettamente che molti di voi conoscono già questo tipo di setup ma volevo dire invece a chi è poco esperto Tra virgolette che è costoso naturalmente lo capite anche da voi Nel senso che dovete avere la scheda di acquisizione e un PC a parte con cui fate appunto streaming o registrazione E devo avere questo PC oltretutto anche delle buone specifiche Un buon processore almeno un Ryzen 5 di ultime generazioni O un Nvidia RTX poi a seconda di cosa usate per la codifica Io ce l'ho già naturalmente il PC principale dello studio in cui appunto è installata la scheda d'acquisizione Dopodiché di volta in volta il PC da cui registra è quello in prova Quello relativo alla configurazione dell'episodio X che vi sto portando Parlando di caratteristiche l'Elgato 4K 60 Pro MK2 vede input in 4K fino a 60Hz In 1440p fino a 144Hz e in 1080p fino a 240Hz Questo vuol dire che hardware e software permettendo con questa scheda sareste in grado di registrare ad esempio in 1080p a 240fps Poi all'atto pratico possiamo dire che non è possibile perché la maggior parte dei software o quelli comunque più utilizzati Come ad esempio OBS hanno un cap, un limite a livello di framerate più basso che è 120fps se non erro E vi permette di registrare anche in HDR HDR10 nel senso che anche proprio il file registrato sarà in HDR Che è una delle novità principali che riguardano questa nuova versione Al di là di chi vuole giocare e registrare dei gameplay o da PC o da console ad elevate risoluzioni Questa è la soluzione ideale ovviamente anche per tutti quegli streamer che fanno streaming ad esempio su Twitch in 1080p E poi hanno anche un canale YouTube dove caricano dei video ad una risoluzione e ad una qualità superiore E a tal proposito altra funzionalità esclusiva interessantissima dell'MK2 E' quella di poter, si chiama Multifid, di poter utilizzare contemporaneamente la scheda d'acquisizione con due software differenti Ad esempio OBS e il software 4K Capture Utility di Elgato Perché è una figata questa qui? Perché vi permette al tempo stesso di, che ne so, fare streaming su Twitch utilizzando OBS in 1080p Ma contemporaneamente di catturare la stessa partita, lo stesso gameplay anche volendo ad una risoluzione superiore Se giocate nativamente ad esempio in 1440p con ad esempio il software di Elgato In questo modo voi siete liberi di fare la vostra streaming in 1080p su Twitch ma di catturare la partita, il gameplay ad una risoluzione, ad una qualità superiore E avendo poi un file RAW, cioè senza overlay, senza da trattare come volete in fase di editing, in post-produzione E' molto meglio che andare a scaricare la live su Twitch e poi riportarla, caricarla su YouTube Poi il 4K Capture Utility vi mette a disposizione un'altra funzionalità interessante che è la registrazione flashback Qualcosa, in qualcosa di già visto anche con altri software come ad esempio Shadowplay Che molto semplicemente vi consente di registrare in modo retroattivo tot minuti o anche ore, fino a 4 ore se non erro di gameplay Molto comoda come cosa perché in questo modo non dovete registrare tutta la partita ma potete prendere solo appunto una parte di questa Lì dove, che ne so, avete fatto l'azione della vostra vita, una giocata bellissima che volete registrare In questo caso schiacciate un tasto e, a seconda di come l'avete impostato, il software vi fa registrare tot minuti di gameplay precedenti Oltretutto se avete una Stream Deck a disposizione potete impostare su questa più di un comando Relativo appunto a una registrazione retroattiva di tot minuti o secondi Poi potete anche utilizzare due schede di acquisizione all'interno dello stesso PC Se, non lo so, siete in due a fare streaming e volete utilizzare lo stesso sistema per fare streaming Entrambi, così come la vecchia versione è compatibile in questo senso con la nuova Insomma è davvero una bomba questo dispositivo, gli si può dire ben poco Poi da quando sono diventati ancora più accessibili hanno acquisito ancora più appeal Unica cosa all'interno della confezione, per chi fosse interessato, c'è un solo cavo HDMI 2.0 Anche piuttosto corto, io li ho acquistati a parte Cercate di acquistare cavi di buona qualità, soprattutto se registrate ad una risoluzione superiore al Full HD Poi vi lascio in descrizione quelli che utilizzo io E niente, prossimamente ragazzi vorrei portarvi un video invece dove vi spiego dall'inizio alla fine Vi faccio vedere come andare a realizzare, come gestire un sistema, un setup, scusate, di questo tipo E non sarò da solo, ci sarà un altro ragazzo con me, molto più preparato, molto più ferrato sull'argomento di me Quindi secondo me usciranno fuori dei contenuti interessanti A prescindere vi parleremo in generale anche di come fare streaming Quindi con un singolo PC molto più alla portata di tutti E niente, per oggi è tutto, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo Ciao